Questa stazione non sa da fare, potremmo scomodare i promessi sposi ma forse più consono alla novella dello stento. Anche oggi l'incontro del tavolo tecnico si è concluso con un nulla di fatto al Ministero, tanto per usare una metafora calcistica. In realtà qualcosa di nuovo è emerso, infatti le osservazioni che avrebbe presentato il vulcanico assessore ai trasporti dell'Umbria, Melasecche, non sarebbero state accolte dagli esperti ministeriali. In pratica le posizioni sarebbero rimaste le stesse, le parti hanno deciso di rivedersi per poter proseguire su questa ipotesi. I due gestori hanno preteso di rivedersi a fine mese, visto che i due soggetti hanno interessi immediati nella particolare fattispecie. Il tavolo con le due regioni potrebbe riunirsi prima, ma a questo punto contano riscontri tecnici. Il quadro per Iutino resta sempre quello che offre le maggiori garanzie.